diego maranghi e leonardo piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 15 giugno leonardo piccinini piero maranghi noi siamo sempre fuori sede e sempre misteriosamente lontani da milano ma non possiamo dire dove ma mi viene una battuta the show must go on perché c'è il castello di show che è vicino a parigi la grande cascata che è il protagonista poi vi ricordiamo l'onardo che comunque noi siamo in trasferta ma lavoriamo sempre per voi sempre come si dice oggi h24 h24 7 barra 7 mettiamo a terra disruptive e location corretto corretto bene i secoli che ti dicono corretto corretto allora è nella cornice spettacolare del castello di show che si svolge l'intera vita adulta della protagonista di oggi marguerite jean de stal sì però stal da non confondere con l'altra più celebre madame de stal jean cordier de lonet baronessa de stal che nasce a parigi il 30 agosto del 1684 e che si spegne oggi il 15 giugno del 1750 sempre nei pressi di parigi siamo a janvier vicino a parigi parliamo di una scrittrice e immemorialista che non ha nulla a che fare con la ben più blasonata madame de stal nata necker figlia del ministro delle finanze jacques necker grande nemica di napoleone si nemica numero uno la nostra madame de stal è viceversa di umilissime origini rispetto all'altra figlia di un pittore e di rose de lonet che in una situazione di estrema povertà la abbandona in un convento retto dai gesuiti tornano i gesuiti di ruan mario draghi mario draghi no ma a ruan proprio i gesuiti anche lì mario draghi è passato a carruan è andato a carruan sì lo stesso luogo dove pochi giorni fa abbiamo raccontato aveva studiato pier cornei lo stesso secolo lo stesso secolo cresce come una piccola regina ed è accudita da una badessa madame de grie e dalle suore che restano stupite della sua precocità perché non ha talento per la musica non ha talento per i lavori manuali e le classiche attività che vengono insegnate dalle suore alle bambine ma nonostante la sua forte miopia ama la lettura al punto che si fa tagliare i capelli per potersi pettinare più velocemente e correre dagli amati libri che simpatica un po come me io mi sono fatto tagliare i capelli certo così ti pettini molto rapidamente i capelli ce li ho eh li tengo corti corti leonari sì sì è rasato lei si distingue nettamente dalle altre ragazze che il convento rendeva mistiche o romantiche e non era interessata ai romanzi o ai libri religiosi ma quelli di massimo cacciari sì diciamo se c'è un'amicizia con mademoiselle desi che lei definisce mente solida e colta e mademoiselle desi la introduce appunto alla filosofia quella di massimo cacciari e alla sua prima esperienza amorosa perché lei si innamora del fratello della madame desi e intere giornate vengono dedicate alla lettura del descartesio cartesio pensate questa questa ragazza solo tredicenne affronta i principi del filosofo nicolà malbranche e conclude che la filosofia non è un problema cos'è che dice può darsi che una testa nuova di zecca che non è impregnata di alcuna opinione riceva più facilmente le idee astratte è vero è vero è vero io che non so niente o l'astrattismo l'astrattismo è fortissimo capisco tutto pollo che è chiaramente senti è una ragazza prudente razionale abbandona la ricerca della verità e per distrarsi dalla metafisica e dall'assenza del suo amante il fratello dell'amica si mette anche a studiare geometria la geometria ma la geometria in questo caso potrebbe avere un significato molto importante perché la porta dal nostro adorato baruc de spinosa forse mi viene da dire insomma un magico periodo di studio di libri di scogliosi che si interrompe a 26 anni quando la sua protettrice muore e la duchessa di fertè perché qua da qualche parte bisogna pure arrivare la introduce quasi a forza come cameriera lei vorrebbe fare la governante al servizio di luisa benedetta di borbone moglie del duca di main lei scriverà quello che mi è successo è stato l'esatto contrario di quello che si vede nei romanzi dove l'eroina cresciuta come una pastorella si rivela un illustre principessa da bambina sono stata trattata come una persona distinta poi ho scoperto che non ero nulla e che nulla al mondo mi apparteneva all'inizio viene alloggiata lei racconta in un mezzanino così basso e buio che camminavo piegata a tentoni non c'era aria per respirare e non c'era un camino per riscaldare e lei si rinchiude nei rari momenti di svago per trovare consolazione ancora una volta nella lettura che diventa elemento salvifico per quasi 40 anni quindi svolge questa dolorosa funzione dove passa intere notti a leggere pensa alla cattiveia della protettiva leggi più a più forte all'insonne tirannica padrona che finalmente a un certo punto ma però sei poi brava si accorge del talento e la coinvolge nella creazione dei suoi sontuosi intrattenimenti oltre a tirarla dentro nella congiura contro il reggente si filippo d'orleano filippo d'orleano filippo il secondo borbone siamo nel momento di passaggio tra luigi quattordicesimo e luigi quindici congiura sappiamo dita dall'ambasciatore spagnolo come sempre viene incarcerata alla bastiglia dal dicembre 1718 al giugno del 1720 e incredibilmente lei racconta vedi come si rovescia no la sfortuna in opportunità l'unico periodo felice che ho trascorso nella mia vita perché in fondo lei alla bastiglia si libera dalla tirannia che il mondo e tutto ciò che questo contiene esercita su di noi io a me verrebbe da dire su di lei poveretta forse perché effettivamente lei poteva leggere la bastiglia ti facevano leggere tu che l'hai frequentata penso di sì sì a me però mi ha mandato di aprire buona condotta ecco tu ed è sad io ed è sad alla bastiglia come sappiamo c'era un certo livello era ben frequentato non era lucciardone no tant'è che lei si diverte a cantare il duetto dall'effigenia con il nipote del cardinale sì nipote del cardinale richelieu che era un altro carcerato il duca di richelieu e ciascuno canta dalla finestra della propria cella o se benigno fosse pur lo sguardo della sacerdotessa venerata lo sguardo tuo vergine santa fosse più chiaro più lucente e da noi tutti lieto presagio copre ancor la panno l'anima tua d'un velo di mistero in van si spera già son anni che esca un'amica parola dal tuo cuore da quando in questo luogo ti conosco il tuo sguardo mi farà brividire l'anima ti rimane incatenata conferra i ceppi nel profondo petto come all'esule all'ortana satice esule orfana qui ti senti ancora finalmente a una stanza con una finestra un camino libri a volontà e un carceriere compiacente è il governatore della bastiglia che era un intelligente il cavaliere le chevalier de maison rouge che perde completamente la testa per lei e le fa avere una lettera galante di un altro prigioniero il cavaliere le chevalier de menil con cui durante i 18 mesi di carcere si scambia 241 lettere e lei assume il ruolo di insegnante di filosofia nonostante non abbia mai imparato il latino e conosca solo il francese esce dalla bastiglia e ovviamente finisce questa relazione epistolare torna a fare la cameriera sempre a show dove legge fontenelle l'histoire dell'academy royal de science locke le pistole di senica machiavelli insomma è a 360 gradi la sua curiosità e conosce così bene le opere dell'anatomista duvernet da essere descritta come la figlia di francia che conosceva meglio il corpo umano è una vita incredibile questa donna si sposa finalmente 1735 arriva il barone il barone d'estal jean jacques d'estal e si sposa e inizia a scrivere le memorie che finiscono nel 1742 lei manda lei come si fa anche oggi prima le manda l'avvocato a chiedere il parere legale Louis de Ricoeur un grande avvocato e dice non vorrei che cadessero nelle mani di persone incapaci di prendersene cura e di discernere l'uso che se ne può fare un po' anche un agente letterario e fa riferimento all'eterna noia al servizio della duchessa quasi cieca si spegnerà appunto oggi nel 1750 avendo anche ricevuto lettera di lodi dal grandissimo Volterre non poteva mancare che riconosce il suo talento nell'unire la grazia al sapere ha scritto anche la nostra d'estal due eccellenti commedie L'Henguement e la mode e nelle sue memorie conclude così il suo autoritratto Delaunay cioè lei era di statura media, magra, secca e sgradevole la sua follia è sempre stata quella di essere ragionevole lasciami dire che se ha fatto perdere la testa così tanti uomini forse tanto secca e sgradevole non era è vero, una grandissima protagonista del settecento delle letter una donna stupenda salve, sono la cameriera secca dei signori Montagnè mi hanno mandato a chiamare Ed, sono a corsa subito cosa accade? cosa accade? cosa accade? virgola cosa accade? cosa accade? cosa accade? recitando a pappagallo ciò che era scritto sul copione cosa accade? cosa accade? cosa accade? cosa accade? cosa accade? se ne so cosa accade? certo è proprio un film tremendo senti Marco, rientra in aeronautica ora come ora con il nostro potere in qualche modo faremmo piuttosto che diventare un fascista meglio essere un maiale l'epoca degli aviatori di ventura è finita non resta altro che volare su barcatti di sponsor triviali come lo stato o la nazione io non volo che con i miei proventi anche volando un maiale resta un maiale meraviglioso porco rosso sabato 15 giugno 1985 tre registi e produttori di anime cosa l'anime? sono i film di animazione giapponese fondano a Tokyo lo studio Ghibli mitico e qui abbiamo già capito il nome indica il vento caldo che soffia nel deserto del Sahara conosciamo bene noi conosciamo bene vi diamo degli indizi però posso dire anche che cos'è il Ghibli? indica un modello prodotto negli anni 30 dalla Caproni l'industria aeronautica bergamasca che torna a essere protagonista con porco rosso poi c'è anche il modello della Maserati Leonardo ha una Ghibli io ho una Trabant lui ha una Ghibli lui ha la Maserati senti è un segnale della sperticata passione che il più celebre dei fondatori Ayao Miyazaki nutre per gli aerei per il volo e lasciatemelo dire anche un po' per l'Italia certo perché suo padre era capo di un'azienda che produceva componenti per aeree e il Caproni 309 è uno dei suoi aerei preferiti e oggi parleremo proprio di Ayao Miyazaki che è un uomo di una fantasia infinita un creatore di mondi un influenzatore di immaginari un corruttore ma nel senso buono della gioventù e tanto altro quando nel 2005 Marco Müller che salutiamo allora direttore della mostra del cinema di Venezia gli assegnò il leone d'oro alla carriera motivò Ayao Miyazaki è il gigante che ha fatto saltare le pareti dentro le quali si è voluto incasellare il cinema giapponese d'animazione e continua sempre Müller la filosofia di Miyazaki unisce romanticismo e umanesimo a un piglio epico una cifra di fantastico visionario che lascia sbalorditi il senso di meraviglia che i suoi film trasmettono risveglia il fanciullo addormentato che è in noi ad esempio Piero quando guarda i film di Miyazaki torna bambino sì, lui mai invece lui non è stato bambino neanche quando era bambino figuriamoci adesso allora Miyazaki nasce a Tokyo il 5 gennaio del 1941 periodo un po' così sotto il segno del capricorno si laurea in economia e scienze politiche ma già dagli anni 60 si dedica a tempo pieno alla sua passione il disegno e i manga cioè i fumetti giapponesi ecco lavora in tempi diversi per i maggiori studi di animazione del paese quindi è proprio una coerenza la sua linea la sua passione insieme a un altro regista Isao Takahata nei primi anni 70 disegna Heidi Heidi, vedete che è stato bambino anche lui anche io io sfido chiunque di voi a non averne mai visto almeno una puntata lui non l'ha mai vista è il giapponese Miyazaki che è il responsabile di quella svizzera diciamo fasulla ma più svizzera della svizzera vera sì io vorrei lanciare un appello tu hai già capito ah ecco sì se Miyazaki potesse occuparsi di fare un nuovo cartone dedicato a Ponna Heidi a Ponna Heidi a Ponna con Amerigo a Osta Ponna esatto bellissimo Amerigo e la capretta no Amerigo e Heidi si sposano perché nel frattempo lei è diventata grande e figliano anche sì figliano non diciamo cosa va bene senti nel 79 arriva il primo lungometraggio e anche qua siamo al capolavoro assoluto un incontro Lupin terzo il castello di Cagliostro sì quindi mettere insieme Lupin e Cagliostro è perfetto sì perché si fonde la storia di Lupin con i personaggi inventati dall'autore di manga Mangaka Mangaka Monkey Punch ecco che qui riassumiamo per i melobani distratti cioè Lupin terzo è il ladro gentiluomo il suo braccio destro è Jigen che è uguale a Leonardo tra l'altro questo dal quale non si vedono mai gli occhi poi c'è Gemon che è il guerriero e la scaltra formosissima Fujiko che ha fatto venire dei frisson anche al bambino Leonardo sì è una grande Fujiko nel 1984 prodotto da Takahata Miyazaki realizza il suo primo lungometraggio finalmente il titolo è Nausicaa della Valle del Vento è la storia di un mondo distrutto dalla guerra una principessa che cerca di comprendere le ragioni della natura scoprendo che le piante possono salvare il pianeta un messaggio anche molto attuale un grandioso poema sulla dialettica irrisolta tra la natura e la cultura e per molti è il più bel film ambientalista della storia del cinema pensate dopo l'uscita del film anche in virtù del suo successo nel 1985 Miyazaki e Takahata fondano con l'altro produttore Toshio Suzuki appunto lo studio Ghibli quello di cui abbiamo parlato prima da cui siamo partiti uno studio di animazione indipendente creato allo scopo di permettere maggiore libertà creativa nei disegni ma anche nella scelta dei temi nei tempi di consegna e soprattutto nello sviluppo delle storie sono liberi di fare quello che vogliono finalmente e i risultati sono pazzeschi Dalla sua fondazione a oggi lo studio Ghibli ha realizzato 23 lungometraggi 10 dei quali diretti dallo stesso Miyazaki e considerati in maniera unanime dei capolavori in Giappone è una grandissima star ma anche all'estero è veramente molto conosciuto il sesto film La città incantata del 2001 è la storia di una bambina intrappolata in un mondo fantastico da una strega che ha trasformato i suoi genitori in maiali beh è considerato forse il suo massimo capolavoro ha fatto inchinare il mondo e la critica e ha vinto anche l'Oscar ha vinto l'Oscar e noi lasciamo parlare il Merighetti un film in cui le invenzioni visionarie e poetiche incessanti e sempre felici si fondono per creare un universo sorprendente e cupissimo dove non è possibile discernere tra buoni e cattivi il suo risultato più alto anche se i temi che lo percorrono l'infanzia come sogno di cui ritardare la fine l'armonia animista delle cose il pittoricismo delle immagini sono già tutti nei suoi lavori precedenti credo che qui Merighetti si riferisca alla principessa Mononoke e al mio vicino Totoro del 1988 dove le protagoniste sono due sorelline che fanno amicizia con gli spiriti della foresta ora il consiglio che noi diamo al pubblico di Classica HD è di vedere o rivedere i capolavori di Miyazaki perché indubbiamente stiamo parlando di uno dei massimi narratori del nostro tempo e i suoi film sono popolati da creature fantastiche a volte spaventose e in mente per esempio ci viene Kaonashi lo spirito senza volto della città incantata e gli insetti giganti di Nausicaa con la città incantata arrivano i premi il film abbiamo detto vince nel 2003 l'Oscar come miglior film d'animazione Miyazaki però non si presenterà a ritirarlo perché è contrario alla guerra in Iraq e quindi vuole denunciare questa sua posizione nel 2006 il regista è di nuovo candidato con il castello errante di Owl stavolta si presenta ma perde contro devo dire il pur meraviglioso Wallace Gromit la maledizione del coniglio mannago 2014 altra sconfitta Miyazaki è candidato con un capolavoro si alza il vento davvero bellissimo un romantico biopic su un costruttore di aeroplani che avrebbe dovuto essere il suo ultimo film e perde contro Frozen l'anno dopo per rimediare il genio John Lester regista di molti film della Pixar gli consegna l'Oscar alla carriera e l'anno scorso Miyazaki ha smentito tutte le voci sul suo ritiro e ha fatto uscire un nuovo titolo Il ragazzo è l'airone un'altra opera con spunti autobiografici perché il padre del ragazzo del protagonista costruisce aeroplani da guerra e un altro proprio l'ultimo premio Oscar tre Oscar tanta roba tanta roba mica male a vegan alle nostre spalle non c'è il libro davanti a me non c'è il Timbota io infatti sono un uomo così che ha perso i suoi riferimenti diciamo sei un po' sbalestrato sì non prendo neanche Prozac la mattina è un momento difficile ma Leonardo invece a cui non frega niente di me va avanti in perterrito e quindi gli do la parola è tornato restaurato nei cinema Buenavista Social Club con Pai Segundo film cult di Wim Wenders e Rai Kuder ecco cui va reso sempre omaggio dedichiamo questo film a un grande stimatore di Cuba all'amico Patrick Gallenti che conosce Cuba come le sue tasche come le sue tasche non diciamo cosa conosce di Cuba perché questa è un'altra storia ma faremo un almanacco su Gallenti esatto ha scritto Giovanni Bogani recentemente era il febbraio del 99 25 anni fa al festival di Berlino tanta attesa per il nuovo film di Wim Wenders il regista di Paris Texas e del cielo sopra Berlino buio in sala e vediamo Cuba l'Havana piena di povertà di colori di vecchie cadi lacani 50 di alberghi lussuosi e i Buenavista Social Club vecchi con le dita piene di musica pieni di gioia sotto il cappello musicisti che si sono inventati strumenti musicali tutti loro come una chitarra a sette corde invece che sei insomma una simpatia assoluta assoluta anche Gallenti devo dire anche Gallenti se la cava bene grande simpatia gallentiana e con questo noi vi salutiamo mi raccomando chi cambia canale è un sacripante a domani al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simeoni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo di San Paolo di San Paolo Grazie a tutti